Buongiorno a tutti, oggi proveremo velocemente a vedere come pulire la tastiera di un pianoforte verticale. In modo particolare, un pianoforte con i tasti in avorio come questo qui. Dunque occorreranno due stracci, uno umido e uno asciutto. Quello umido, usare dell'acqua va benissimo. Fate attenzione che non sia troppo bagnato, non deve gocciolare niente tra un tasto e l'altro. Potrebbe rovinare lo strumento. Con il quale andremo, dapprima, ad esercitare una lieve pressione su ogni singolo tasto, partendo da quello nero. Possiamo passare più volte su uno stesso tasto. Giriamo lo straccio e successivamente andiamo a fare la stessa cosa con i tasti bianchi. Finita un'ottava, passiamo allo straccio asciutto e andremo ad asciugare i tasti appena passati con lo straccio umido. Giriamo anche quello asciutto e andiamo ad asciugare i tasti bianchi. Cerchiamo di usare più parti dello straccio, così non ci trasciniamo lo sporco che di volta in volta togliamo. Continuiamo lungo tutta la tastiera e avremo i tasti asciutti e puliti.